Ciao a tutti gli entusiasti della musica e benvenuti al sesto episodio del PianoCast. Oggi ci concentreremo sulle affascinanti tonalità di Re e Sol maggiori. Queste tonalità sono fondamentali per chiunque voglia avere una comprensione completa dell'armonia e sono spesso al centro di molte composizioni musicali. Quindi il mio invito per te è che, indipendentemente dal tuo livello oggi, il tuo percorso musicale inizia proprio ora diventando un pianista esperto insieme a noi in queste due tonalità. In questo episodio io ti fornirò nuove intuizioni e tecniche per navigare con sicurezza in queste due tonalità, Re e Sol maggiore. Insieme ci medieremo in queste tonalità, svellandoti come ogni nota e ogni accordo formi la base di melodie indimenticabili. Quindi, come sempre, noi non ci limiteremo alla teoria, come dico sempre, no? Io ti guiderò attraverso esercizi pratici e tecniche di visualizzazione per aiutarti a padroneggiare una volta per tutte queste due benedette tonalità in modo intuitivo soprattutto. Quindi ricordati, con il PianoCast l'apprendimento dell'armonia diventa sempre un viaggio piacevole, stimolante e soprattutto che puoi intraprendere ovunque tu sia. In viaggio, durante una pausa, magari, o semplicemente magari sei a casa che ti stai rilassando, no? Lì il PianoCast è ideale. Quindi ricordati, tra l'altro, che è un PianoCast interativo. Cosa vuol dire, Marcos? Un PianoCast interativo non l'ho mai visto, stai tranquillo. Ogni volta che sentirai questo suono qua, è il momento per interagire con me. Quindi che tu, ovviamente, stia rispondendo a una domanda, o solo semplicemente eseguendo un esercizio, oppure anche riflettendo su un concetto che ti dirò, vuole che tu sia al centro dell'azione in questo podcast, indipendente se magari lo ascolti al mattino o alla sera. Se sei pronto, io direi di partire andando a scoprire queste due tonalità. Ci stai? Allora, let's go, vai! Allora, amici miei, Quindi, prima cosa, soprattutto, lasciamo un like in questo episodio, ok? Il feedback è specifico e mi aiuta a capire se vale davvero la pena essere qua tutti i giorni con te con un nuovo episodio diverso, va bene? Perciò, visualizziamo insieme la scala di Re maggiore. Ok, tonalità di Re maggiore, com'è che facciamo? Primo esercizio, visualizzare la scala armonizzata, ok? La scala armonizzata parte dalle note della scala, quindi dobbiamo conoscere le note della scala di Re maggiore. Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis e basta. Sette note. Da queste sette note iniziano gli accordi. Diciamolo insieme. Ormai a questo momento lo sai già. Tonalità di Re. Primo grado, Re major 7. Secondo grado, Mi minore con la settima. Terzo grado, Fa diesis minore con la settima. Quarto grado, Sol major 7. Quinto grado, La settima. Sesto grado, Si minore con la settima. E settimo grado, Do diesis semidiminuito. Molto bene. Partiamo ora con la tonalità di Sol. Prima cosa, memorizziamo le note della scala. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Punto. A queste note diamo le stesse categorie di accordi che abbiamo fatto su Re. Quindi, insieme. Tonalità, Sol maggiore. Primo grado, Sol major 7. Secondo grado, La minore con la settima. Terzo grado, Si minore con la settima. Quarto grado, Do major 7. Quinto grado, Re 7. Sesto grado, Mi minore con la settima. Settimo grado, Fa diesis semidiminuito. Ora che abbiamo fatto queste due tonalità, il primo step l'abbiamo superato. E se io fosse in te, mi chiederei, sono riuscito a rispondere e a dire nella stessa velocità di Marcus? No? Aspetta, forse c'è qualcosa che non va. Forse anche è il momento di tornare indietro e cliccare nel link in descrizione e partecipare al corso Accordi Jets da Zero. Perché è lì che stiamo facendo tutto il lavoro di pratica. Qua sto solo dando un insight in più per voi, che sarebbe un contenuto specifico per loro. Però ho deciso anche di aiutarti gratuitamente a farlo. Però se queste conoscenze basiche, in più tutte le altre tonalità che abbiamo già fatto, non sono ancora consolidate dentro la tua mente, amico mio, cosa aspetti? Il corso Accordi Jets da Zero è il posto in cui ti eserciterai nella pratica, perché io dico sempre che la teoria è molto importante, ma non serve a nulla sapere che cosa è un 2, 5 e 1, Re, Sol e Do in tonalità di Do major 7. E magari avere qualcuno al tuo fianco che ti suona questa progressione e non riconoscerla. Davvero, non fare questo errore, ok? Clicca nel link in descrizione e scopri il corso. Andiamo avanti. Ora, nel secondo step io ti dirò i numeri delle accordi che tu dovrai identificare. Per questo userò un contenuto esclusivo per gli studenti, ma che tu avrai accesso anche qua gratuitamente, ok? Per i miei ragazzi sapete che questo flashcard qua è già incluso per voi, ok? Dunque, quale grado rappresenta l'accordo Mi minore nella tonalità di Re? Se hai risposto il secondo grado, hai detto molto bene, perfetto. Andiamo avanti. Quale grado rappresenta l'accordo Fa diesis minore in Re? Molto bene. Se hai detto il terzo grado, hai detto bene, perfetto. Andiamo avanti. Ora, quale sarebbe l'accordo Sol major 7 in Re? In quarto grado. Molto bene. Com'è andato fino qua? Approfitta ora per mettere qua il tuo like, se non l'hai ancora fatto in questo episodio, mi raccomando, guarda che ti tengo d'occhio e aiutami anche tu, perché davvero c'è tanto di quel lavoro dietro qua per te e davvero il minimo che ti chiedo è fare questo like. Perché automaticamente, quando tu fai like e commenti, non solo mi aiuti dando mio feedback per mostrare che questo episodio è importante per te e che ti sto aiutando, ma l'algoritmo di YouTube capisce che il video è rilevante e automaticamente lo mostra ad altre persone che dovrebbero essere qua a vedere questo contenuto. Pensa che questo metodo con le flashcards non l'ho mai utilizzato con nessuno e non ho mai visto nessun insegnante che cerca di creare delle flashcards qua, solo qua, in questo qui che ho già creato, ci sono più di 200 flashcards per i miei studenti e non ho mai visto nessuno farlo, no? Io una volta quando stavo studiando usavo la mano per scrivere su un foglio di carta, sui fazzoletti, magari nei tovaglioli quando era un giro che dovevo pensare alla scala armonizzata, non avevo nessuno per farlo e tipo mi sono creato delle carte, no? Che avevo solo i numeri messi davanti e poi me li studiavo così con gli amici, no? Facevo magari mentre eravamo al ristorante a parlare, facevo questo gioco, no? Il gioco delle carte musicali, però l'ho sviluppato ulteriormente appunto per aiutarti e darti questa mano. Quindi davvero apprezzo che mi lasci questo like perché automaticamente mi aiuterai a mostrare questo tipo di video e dare questi input alle persone, ragazzi, dobbiamo fare un lavoro fatto bene, no? Quindi grazie per il tuo like. Ok, dunque, vediamo ora il secondo step e io vorrei fare con te, ora, questo, no? Se io ti mostrasse adesso la progressione 1, 4, 5, 1 in re, tu cosa mi diresti? Quali sono gli accordi corrispondenti? 1, 4, 5, 1. In re maggiore corrispondo negli accordi di re major 7, sol major 7, la con la settima e re major 7. Ora, risponditi da solo. In quanto tempo sei riuscito a pensare in questi accordi? Se non ti sono venuti in mente così, devi ancora lavorarci sopra, ok? Bene, prossima. 2, 5, 1 in re. Vai! Ok, se hai detto mi minore con la settima, la 7 e re major 7, hai detto bene, perfetto. Prossima, in re sempre. 6, 2, 5, 1 in re. Ok, se hai detto si minore, quindi il sesto grado di re, si minore con la settima. Secondo mi minore 7, quinto la 7 e re major 7, primo grado, ok? Molto bene. Io direi anche di partire ora e provare a fare un'altra tonalità che è quella di sol e vedere come ce la caviamo, ok? Vediamo perché è importante allenarsi in tutte le tonalità e vorrei che tu lo facessi insieme a me ora, va bene? Quindi, fammi vedere qua di prendere questa tonalità in sol e chiederti, vediamo, vorrei vedere l'accordo in sol. Quindi, ora vengo qua nel mio deck, nel mio mazzo di carte e vado avanti. Ok, molto bene. Perfetto. Ci sono tutte le tonalità qua, ma voglio quella di sol, quindi vado avanti. Queste sono tutte le domande che dovresti rispondersi, ok? Mi raccomando. Perché se io dovessi stare qua a mostrati tutte le carte, non lo finiremmo più questo podcast, anche se mi piacerebbe molto. Però, vorrei che tu lo potessi fare da solo, ok? Ora, vediamo. Se io ti chiedessi chi è il 2-5-1 in sol, vai! 2-5-1 in sol corrispondono agli accordi di La minore con la settima, Re con la settima e Sol major 7. Ora però, se io ti chiedo 1-6-2-5 in sol, chi sono gli accordi? 1-6-2-5 in sol, vai! Ok, diciamolo insieme. Sesto grado, Mi minore con la settima. Secondo, La minore con la settima. Quinto, Re 7 e primo Sol. Quindi, in mente, quando qualcuno ti chiede di suonare 1-6-2-5 in sol, tu devi subito dire Sol major 7, Mi minore con la settima, La settima, Re 7 e Sol. Punto. Non devi balbettare, devi dirlo subito. Quindi, sono contento che sei stato con me in questo episodio. Abbiamo fatto questo lavoro in Re e Sol, l'abbiamo fatto in tutte le tonalità, e tutto questo lavoro puoi trovare dentro il corso Accord Jets da Zero. Concludendo questo episodio, spero davvero che tu abbia acquisito nuove competenze e la fiducia nel navegare in queste tonalità, sia di Re che di Sol. Ricordati che la visualizzazione è uno strumento potente nel tuo arsenale musicale, e tutte queste tecniche condivise oggi ti serviranno bene nel tuo percorso. E come sempre, la pratica costante è la chiave e ogni accordo e ogni tonalità che ci siamo esercitati e che tu esplorerai d'ora in poi, ti avvicinerà sempre di più alla maestria musicale che desideri, ok? Quindi, amici, se ti senti ispirato, io ti dico, guarda, desideri approfondire? Vuoi davvero entrare dentro l'armonia ulteriormente? Guarda solo il link che c'è qua nella descrizione. Ho preparato una lezione per mostrati come tutte le persone sono in grado di imparare gli accordi jazz esattamente partendo da zero e quindi con una serie di lezioni dettagliate, esercizi e la community che davvero ti aiuterà a crescere, vedrai che è impossibile non fare i progressi che hai bisogno, ok? Avrai ovviamente anche il mio supporto e tutte le basi musicali per praticare. Quindi, non aspettare, unisciti a noi e inizia oggi il tuo viaggio nell'armonia, ok? Un grande abbraccio, dite benedica e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao!